Prima o poi sarebbe accaduto, Yo-Kai Watch Busters è stato annunciato C'è solo un piccolo problema, non è stato annunciato da noi Sì, no? Waheyi Kuch, ben ritrati sul nuovo Yo-Kai Watch News, o comunque sia news in generale Però principalmente oggi si tratta di Yo-Kai Watch Come detto all'inizio, Yo-Kai Watch Busters è stato annunciato ma principalmente in Corea La notizia è trapelata qualche ora fa da quando sto registrando il video E sembra che Nintendo of Corea abbia confermato e annunciato 4 nuovi giochi per Nintendo Switch e per Nintendo 3DS Ovviamente questi giochi saranno solo in coreano, come è giusto che sia E tra i vari giochi spiccano più che altro Yo-Kai Watch Busters Team Cane e Team Gatto Ora, abbiamo già dei loghi in coreano e la notizia è quindi ufficiale al 100% E il gioco sembra che abbia una release in aprile, 19 aprile ovviamente di quest'anno Il 19 aprile è un giovedì, in genere noi europei e anche americani riceviamo il gioco una settimana prima del Nord Corea Quasi sempre è successo così Ci sono varie eccezioni, tipo Nord Corea ha ricevuto tantissimi giochi, una vasta quantità di giochi per Nintendo 3DS Anche addirittura anni dopo l'America e l'Europa Probabilmente, se contiamo che è sempre stato così, potremmo ricevere addirittura Yo-Kai Watch Busters una settimana prima Potrebbe comunque slittare e accadere una settimana dopo C'è solo un piccolo problema Non è stato annunciato nulla da parte di Nintendo of America e Nintendo of Europe Quindi non si hanno notizie ufficiali per quanto riguarda noi Mentre per Sud Corea, e penso anche Nord Corea, però non è sicuro più che altro, è Sud Corea Per Sud Corea quindi si hanno notizie certe al 100% Ad ogni modo, ho trovato su Reddit, un ragazzo ha stilato una classifica E non si è definito né leaker, né insider, né quant'altro Però ha voluto pubblicare una lista Ha detto, secondo me, e ha detto tra parentesi, secondo me I giochi usciranno in questa maniera Poco dopo l'uscita di Yo-Kai Watch, Psycho Spectre Lui ha scritto che il 29 settembre appunto ci sarebbe stato Shinuchi Ovvero Psycho Spectre su 3DS Release fisica sia PAL sia NA Che sarebbero PAL Europa e NA Nord America Quindi ve le dico così che facciamo prima Sempre nell'inverno del 2017 in Giappone è uscito Busters 2 Questa cosa si sapeva già Quindi, insomma, diciamo che se non è un Insiders Comunque sia, questa cosa si sapeva Però ha scritto e ha azzeccato in maniera quanto strana Primavera 2018, aprile Busters 3DS e Shop Esclusivo per Nord America Ed edizione fisica PAL Questa cosa è molto strana Lui non ha menzionato la Corea Però, diciamo che azzeccare Primavera 2018, aprile È alquanto strano Poi, fine 2018 E ciò le prove che usciranno quest'anno Yo-Kai Watch 3 In tutte e tre le versioni Direttamente con Update 4.0 Fisica per 3DS PAL e NA Primavera 2019 Busters 2 E Shop in Nord America Fisica in PAL Ma solo su Nintendo Switch E questa è una notizia molto accreditabile Perché si sta parlando di portare Busters 2 Su Nintendo Switch E Busters è un gioco che tranquillamente Si può giocare su uno schermo solo E Tabletop, ovvero Nintendo Switch appoggiata sul tavolo Con i Joy-Con staccati Sarebbe davvero la cosa migliore da fare Per Yo-Kai Watch Busters 2 Però Però Non si sa Secondo me questo qui Non ha detto Né che è un Insiders Lo ripeto Né un Insiders Né un Leaker Ma il modo in cui ha scritto Con tale precisione O è un visionario O ci azzecca malissimo Oppure È davvero qualcuno Lui però non ha detto niente E ci ha azzeccato anche Fine 2019 Se ne sta parlando già da tempo Dopo l'uscita di Psicospettri però Da inizio di quest'anno Fine 2019 Yo-Kai Watch 4 Switch Release mondiale Io più di questo Non so cosa dire È eccezionale Questo Quello che Questo programma Che ha scritto E ci ha azzeccato in vari punti E Yo-Kai Watch 3 Ho anche le prove Che uscirà quest'anno E ho anche le prove di Busters Che uscirà Ad aprile C'è una foto Scattata In una specie di Con spagnolo Non so di preciso Quale Possa essere di preciso Però Hanno annunciato Yo-Kai Watch La terza stagione Con 50 episodi Attenzione però Hanno messo Lo Yo-Kai Watch U Ovvero Yo-Kai Watch americano Uno Con due medaglie Hanno messo Tra gli spin-off Tra 2017 E 2018 Yo-Kai Watch Busters Entrambi i capitoli Cane Team cane Team gatto E hanno messo Sempre Nella sezione 2018 Sushi Tempure Sukiaki È allucinante questa cosa E anche Il secondo film Di Yo-Kai Watch Io Più di questo Non so che dirvi Questa È una notizia Attendibile Appunto C'è stata Un comic con Spagnolo Non Non so quale sia Ma l'ho trovata Questa foto Su reddit Sempre Di un ragazzo Appunto Spagnolo Che Ha fatto La foto E praticamente È attendibile Anche altri Hanno commentato Io c'ero L'ho visto Ma siamo sicuri Siamo sicuri Sì Non possono annunciare Qualcosa Che poi non verrà fatto Quindi Quest'anno Avremo Busters Primavera E a fine Anno Tra settembre E dicembre Ovvero Gli ultimi tre mesi Dell'anno Yo-Kai Watch 3 Sushi Tempura E Sukiyaki Io spero che facciano uscire A settembre Sushi Tempura E a dicembre Sukiyaki Sarebbe la cosa Migliore da fare Per concludere Yo-Kai Watch O almeno I tre videogiochi Della serie principale Poi Busters Busters 2 Che è un giocone È molto più complesso E ampio Di Yo-Kai Watch Busters Ovvero il primo E quindi Secondo me Se uscisse Su Switch Sarebbe Una grandissima Occasione Per poter Recuperare Un gioco Del genere La cosa però Che mi lascia Perplesso È che Yo-Kai Watch Busters Il primo Ha ben Tre Versioni Team cane Team gatto E team coniglio Però Qui non è annunciato Il team coniglio In fondo Il team coniglio È una specie Di update Come è successo Per Psicospettri Cavalcando Quest'onda Hanno fatto Anche Team Team coniglio Va bene Ma qui Non è annunciato E la cosa Potrebbe Anche Essere Probabilmente Che non uscirà Molto Probabilmente Non uscirà Però È una perdita Minore Perché cavolo Suscitem pure Sukiyaki Meglio di questo Cosa vogliamo Ad ogni modo Per oggi Le news Finiscono qui Inoltre Vi annuncio Che sta Per uscire Una serie Sul canale Sempre inerente A yokai Ma non A yokai watch O meglio Ha a che fare Con yokai watch E con gli yokai Del florecore giapponese Sarà Una cosa Fenomenale Ci sto lavorando Tantissimo Io spero che vi piaccia Spero che possa Piacervi E inizierà a marzo E sarà una bomba Io come sempre Vi ringrazio E ci vediamo In un prossimo video Bye bye Ciao